ciao a tutti oggi vi faccio vedere un modello che ora già recensito ma questa è una serie particolare limited edition si tratta del gerber firebarn app gate combat folder questo è il modello grande ce ne sono due misure tre anzi una credo che non la facciano più questa adesso che è il modello più grande più adesso c'è una misura più piccolina la manicatura in questo caso è sempre in g10 però come vedete come colore foliage green invece che nera e la clip è nera invece che color acciaio il modello è sempre apribile ad una mano come vedete combat folder è scritto sulla lama dall'altro lato invece abbiamo un bel po di scritte c'è la firma di applicate febarn e il marchio gembri usi questi modelli escono tutti con la lama combo in parte segretata e in parte dice abbiamo una zichinatura sulla parte superiore della lama è un sistema di sicurezza linear lock questo sistema di sicurezza linear lock in più a un piccolo vedete pulsantino che blocca il linear per evitare che si possa chiudere il coltello basta spingere in avanti e il linear non si chiude più per sbloccarlo basta tornare indietro e ritorna in perfetta posizione il coltello è molto fluido da aprire e chiudere il tubo lo vedete è ambidestro quindi va bene per sia per destri che sinistri la clip credo che si possa passare da entrambi i lati così il coltello diventa completamente destro o sinistro non si può mettere sotto perché la forma della manicatura è diversa le misure sono generose sono troppo il metro comunque la lama è più di 4 pollici sarà 5 pollici e la manicatura è un po più lunga per impugnarsi meglio come vedete esce fuori dalla mia mano anche la presa reverse si comporta bene fate conto che è un modello tattico militare e quindi diciamo è questo il suo suono la parte di sopra non è logicamente affilata è un falso contro filo però la forma è sempre stiletto coltello è molto bello vi devo dire fatto anche abbastanza bene l'inner è un po sottile però per quello che dovrebbe servire va benissimo in più questo sistema di sicurezza blocca completamente la lama come vedete sotto c'è una specie di anellino vedete che sbloccandolo si toglie gerber upper grit firebun combat folder limited edition